Bene, stamattina siamo in quello di Mappello, al santuario della Madonna di Prada, con il nostro Giorgio, Claudio, oggi giretto sul Monte Canto. Grazie per la visione! 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 il giro è terminato del monte canto un giro nuovo un giro impegnativo fisicamente e tecnicamente impegnativo 982 metri di dislivello con 28 km anche per oggi il giro del tinta va bike sezione enduro è terminato se vi piace il video mettete un like e ci vediamo alla prossima ciao ciao